quattordicesima giornata di stagione regolare ne manca una e saremo a metà alla fine del girone d'andata ma stavolta oltre alle pagelle normali tradizionali abbiamo anche un mvp assoluto indiscusso di tutte le partite miglior giocatore di giornata riccardino pittis ormai a brindisi quando qualcuno dice qualcosa di inappropriato di fuori luogo dicono ha fatto una gafni questo per far capire che tipo di stagione sta vivendo toni gafni all'epicasa di brindisi peggiore in campo probabilmente moraschini 1 su 12 dal campo però almeno si sbatte ce la mette tutta gioca da playmaker fuori ruolo tant'è che il plus minus di moraschini in una sconfitta è di più 6 gafni invece non si vede proprio gioca ai margini della partita qualche punto qualche rimbalzo ma da uno con il suo curriculum ci si aspetta molto molto di più la partita la portano a casa prima sykes poi green poi nichols e sul finale ariel figlioi che fa quel fallo su moraschini a 4 secondi dalla fine che è decisivo perché non spende il fallo che concede tiri liberi ferma il gioco e lascia solo 4 secondi a brindisi per organizzare un tiro che con banks si ferma solo sul ferro però in tutto questo io voglio premiare patrick young perché nonostante la sequela di infortuni nonostante il fatto che ad avellino tutto sommato debba poco nulla perché è appena arrivato ha fatto un gesto molto importante in settimana ha scelto insieme a sykes di dividere un appartamento per far risparmiare un affitto alla società avercene di americani in questo modo nel nostro campionato e poi in avanzatempo mette quasi una doppia doppia 8 e 10 rimbalzi a metà del quarto quarto c'è de raffaele che chiama un time out io me lo immagino davanti ai giocatori schierati in panchina che chiede specchio specchio delle mie brame chi è il più del reame e risponde ovviamente michael bramos come tutte le volte che c'è bisogno di un tiro decisivo in casa venezia mette prima la tripla e poi un canestro da due in uscita proprio da quel time out che saranno decisivi per l'allungo buono di venezia a fine gara 12 e 8 rimbalzi promossissimo senza andrew crawford che è il miglior realizzatore di cremona la squadra di sacchetti avrebbe bisogno di un wesley saunders capace di prendersi in mano soprattutto l'attacco invece in questa gara è inconsistente è evanescente è molle sembra il sunday 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 non l'ho mai capito come si chiama quel gelatino molle che danno anche al mcdonald alla fine per lui due su nove dal campo un solo assist tre perse e tre airball da rivedere senza nedovic con mike james lasciato in tribuna da pianigiani in vista del barcellona nel reparto degli esterni c'era bisogno di qualcuno che prendesse in mano la situazione e amedeo della valle alla prima partita con milano con più di 30 punti giocati si traveste da conduttore dirige il gioco segna 18 punti tira con l'ottanta per cento dal campo e risulta per la prima volta veramente decisivo non c'è niente da fare og ci prova si sbatte ce la mette tutta come sempre ma il problema principale è la stazza la fisicità dei lunghi avversari contro gudaitis mancano proprio i centimetri alla fine per hog tre soli rimbalzi due palle perse e gudaitis che ne abusa in tutto e per tutta a un certo punto riceve palla e gli schiaccia a due mani in testa roba che sembrava vince carter all'olimpiadi mamma du jai te entra in partita come un bicchierone di tè freddo ghiacciato nel mezzo di una bufera di neve non riesce mai a incidere appena due punti tre rimbalzi in soli dieci minuti poi galbiati lo tiene a sedere perché una squadra che ha già meccadu in forte rimonta cousin che da riserva per le zone di classifica in cui milita torino è un cambio extra lusso non aveva assolutamente bisogno opinione mia personale di un giocatore del genere ok hobson ok mur ma jai te c'è un modo di dire statunitense che dice no pain no gain ossia senza sudore senza sforzo senza dolore non c'è vittoria non c'è guadagno e si adatta perfettamente alla partita di frank gaines che sul finale dei regolamentari ha il pallone in mano con cantù sul più due la partita praticamente vinta però si addormenta se lo fa scippare sotto il canestro e regala due punti a torino che costano il supplementare jefferson inquadrato perde tre chili dallo spavento e poi nel supplementare lo stesso gains riprende la squadra in mano segna i liberi decisivi chiude con 26 5 triple e il 100 per cento dalla lunetta quando gioca a bologna si parla sempre più spesso di tony taylor lo si fa soprattutto per i suoi alti e bassi però per fortuna per i bolognesi ovviamente in questa partita c'ha la luna giusta perché se pietro arradori è ancora ben lontano dall'essere al 100 per cento che elvin martin è visibilmente fuori forma e kevin panter cicca totalmente la partita tony taylor la chiude con 22 8 assist e soprattutto le giocate decisive per l'allungo di bologna sempre più leader voglio dire non è mica facile sentirsi mettere pubblicamente sul mercato dalla propria squadra e non è mica facile poi sentire la stessa squadra che ti chiede di andare in campo e di giocare come se niente fosse però se ci mettiamo dall'altra parte nei panni della squadra dello staff della società non è mica facile ritrovarsi a settembre all'inizio del campionato col proprio centro titolare che ti arriva in enorme sovrappeso e non è mica facile se lo stesso centro titolare dice fuck off al proprio allenatore davanti a tutti pubblicamente in partita con le telecamere che lo riprendono è una situazione quella tra mica e brescia molto complicata che però esprime al meglio questa crisi di identità che c'ha la leonessa e se sul campo le cose potrebbero migliorare quando tornerà luca vitali fuori dal campo l'impressione è che ci sia ancora qualche cosa da risolvere Jack Cooley in questa partita è un super alcolico che i lunghi di Trieste non riescono proprio a reggere li ubriaca dal primo all'ultimo minuto chiude con 24 punti 7 su 8 dal campo 10 su 13 ai liberi e 32 di valutazione è la nona partita sulle 14 giocate in cui supera i 20 di valutazione l'unica cosa buona per Trieste che a un certo punto esce per falli altrimenti sarebbe stata una serata da record Jack Cooley se lo fa consegnare sotto canestro Justin Knox e se lo mangia vivo per Knox alla fine 9 punti e appena 1 di valutazione a un certo punto il quarto fallo sembra quasi una cosa buona perché Dal Masson lo può togliere per mettere Mosley non che Mosley abbia fatto tanto meglio però questa ambiguità di ruolo tra i due centri titolare e riserva di Trieste continua a dare problemi Alessandro Ramagli sembra Renzo dei promessi sposi gliene succedono di tutti i colori quattro sconfitte in fila l'ultima con l'imbarcata a Cantù nel frattempo gli si rompe Gladness Dominic Johnson sembra ancora non aver accettato la proposta di rinnovo di Pistoia però alla fine alcuni episodi gli dicono bene e sposa Lucia batte a Tiliokaia e trova due punti che per la ori ora Pistoia sono ossigeno puro posto che un passo falso nella stagione meravigliosa di Varese ci sta alla grande Jean Saloumou ne combina una dietro l'altra 0 punti 0 su 3 dal campo e 3 falli la mia domanda per il GM Conti è la seguente c'era davvero bisogno di dar via Pablo Bertone che ha talento limitato ma comunque a cuore grinta e intensità per prendere un giocatore del genere? devi scagnarti alti e bassi di questa pazza stagione di Reggio Emilia il taglio di Richiledo gli americani tutti sbagliati la ricostruzione le voci di esonero e poi questo più 42 138 a 51 per Reggio Emilia ci sono tanti tantissimi troppi demeriti di Pesaro ma un merito importante e fondamentale di Reggio Emilia è stato quello di tenere il gruppo tutto unito in questa fase di transizione assoluta e il merito in questo caso è prima di tutti dell'allenatore Ario Costa si presenta in sala stampa dopo la partita al posto dell'allenatore non è un gran segno ma nel momento in cui stiamo registrando questo video Cedro Galli non è ancora stato esonerato la sensazione è che manchi un giocatore in grado di caricarsi la squadra sulle spalle al posto di McCree sembra che abbiano mandato il cugino scarso Artis si fa male Blackmon ha sempre meno capelli e la VL in questo momento è ultima in classifica anche se a pari merito con Pistoia e Torino Torino che però pare avere un potenziale nettamente superiore alle altre due la sensazione non è tanto che i giocatori stiano giocando contro chi li allena quanto piuttosto che abbiano completamente smarrito ogni tipo di fiducia probabilmente Riccardo Moraschini 1 su 12 dal campo e io me lo immagino dai vanti dai vanti in vista del ma... con Cantusso più... su-pu-pu davanti alle partita... alle partita... no... Trieste non reggono... pu per inserire Jean Saloumou? Siri chi t'ha chiamato? L'Quri Fai ione Quai la ph